Buongiorno, in Piemonte si sta aspettando la pioggia che può cambiare radicalmente le sorti di questa annata. In alcune zone veramente critica la situazione per cui l'acqua, un'acqua dolce, serena e magari non così violenta, può essere certamente importante. Ci sono alcune zone in cui la vendemia è già iniziata, soprattutto nelle zone in cui si coltivano vitigni base spumante, ciardone e pinonero, nei giorni scorsi hanno già iniziato la vendemia che proseguirà nelle zone più alte dell'Alta Langa per le varietà appunto destinate alla spumantizzazione. Seguirà verso fine mese per poi partire decisamente i primi di settembre la varietà Moscato, la varietà bianca più diffusa in Piemonte, seguita ovviamente dalle varietà più precoci anche a Bacca Nera come il Dolcetto nelle Langhe, la cui vendemia si prevede verso metà settembre. Il problema è purtroppo legato alla Barbera, la Barbera soprattutto nella zona stigiana dove l'uva di eccellente qualità e anche il vitigno più diffuso in Piemonte, soprattutto nella stigiana il vitigno più coltivato, soffre di questa carenza di acqua. Nella speranza che qualche pioggia venga in qualche modo ad aiutare la situazione si prevede un'annata importante la cui vendemmia appunto in caso di pioggia potrebbe rientrare nei canoni classici da oltre la metà di settembre. Per quanto riguarda invece la varietà nebbiolo, ovviamente il vitigno nobile piemontese che tocca reali importanti come l'Opera del Barolo, Barbaresco, Roera e l'Alto Piemonte, la vendemmia come idea generale non prima del 20 di settembre ma in alcune zone, le zone più fresche e anche un po' più alte, si pensa a una vendemmia che ritorni un po' ai canoni classici anche nei primi del mese di ottobre. Per quanto riguarda invece vitigna baccabianca, Arneis, Cortese nella zona di Gavi e il Timorà sulla zona di Tortona, si partirà con l'Arneis verso il 10 di settembre nella zona del Roero, nelle zone preservate dalla Grandine, perché quest'anno Roero ha avuto una criticità importante per la Grandine, la zona di Gavi partirà intorno ai primi di settembre ma in caso di pioggia la vendemmia potrebbe anche essere ritardata dopo il 15 e il Timorà nelle zone più calde partirà ai primi di settembre per poi proseguire dopo la metà di settembre nelle zone più alte. Tutto sommato si pervede una vendemmia importante, di alta qualità e certamente siamo un po' nelle mani del cielo come si dice, ma confidiamo che anche quest'anno il Piemonte possa portare sulle tavole degli appassionati dei grandi vini. Grazie per l'attenzione.